perfetto siamo partiti dal lago d'adiolo a luna 1.38 siamo arrivati alla macchina va che aperto chita tutto bene 34 chiti siediti dai adesso facciamo riposare un pochita e niente ci siamo svegliati presto è uscito il sole le tende si sono asciugate molta c'era fatti le uova i wuster col succo d'arancia abbiamo mangiato qualche minuto prima ci siamo fatti il bagno dalla ghiacciata molta gente infatti il parcheggio c'è molta gente molto frequentato infatti il parcheggio è pieno di macchine e niente bellissimo abbiamo trovato uno spiazzo per le tende fantastico e ha fatto sì più o meno una ventina di ore su tra salire e scendere e dormire poi abbiamo rimontato le tende verso le 11 siamo rilassati un po ho preso un caffè al rifugio a lago bellissimo un po di mucche disturbatrici e tutto qui e anche questi due giorni anche sto giro perfetto partiamo la chita su qui c'è la teleferica dell'enel parcheggio in abbondanza ci sono tante macchine starà scendendo scenderà un po di gente kit è pronta e via si parte con l'abicchia dell'enel viaggio Grazie a tutti. 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 Uovo. 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo alla spiaggetta dai. Andiamo dai. Andiamo dai. Che spettacolo. Andiamo dai. 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 Andiamo dai.